E di primavera ancora, neanche credo 4-5 giorni di primavera ha fatto ancora, oggi sta pure più avviginante. La palla mangia panna e prova a sventagliare in aere di ricordo, attenzione, gol! Gol di Vincenzo Cosa, 2-0. 2-0 per la riga Ramezia, un grande conversione per Vincenzo Cosa al volo. Vincenzo Cosa, 2-0.